Let's go baby, ritorno al talk show stasera, facciamo un pochino di overwatch, un pochino forse di altri giochi, vediamo di fare magari qualche sessione di coaching mentre siamo in live E poi da notte fonda parte il late night power show, quindi ovviamente alcol, qualcosa da mangiare, sigarette elettronica, vape, buona musica e si va a roccheggiare assieme in sottofondo Let's go baby